Un bruttissimo secondo tempo dove il Pescara si è sostanzialmente consegnato al Modena, non so se sono 15-16 i gol subiti, di sicuro la Reggiana è a più 8 e credo che serva qualche intervento per cambiare questo trend, è d'accordo? L'intervento serve per forza perché dobbiamo dare continuità ai risultati, dobbiamo fare un filotto di vittoria, l'abbiamo già detto. Il primo tempo per me è stato un ottimo primo tempo, abbiamo giocato bene, abbiamo preso due gol stupidi e poi il secondo tempo invece siamo stati troppo confusionari secondo me, confusionari, il Modena si è chiuso, ripartiva in contropiede e non siamo riusciti a ribaltare la partita. Il problema è questo Matteassi, mi permetto di intervenire sulla sua affermazione, ha detto dobbiamo intervenire, le chiedo come, però il problema è che in un buon primo tempo, perché effettivamente la squadra è piacevole quando gioca, arrivano sempre i due gol subiti, ogni volta per un errore, per un motivo, per un altro però arrivano sempre questi gol. Intervenire intendo lavorare, lavorare sugli errori che facciamo, lavorare, altro non puoi fare, lavorare e cercare, ripeto, di fare un filotto di vittoria, ma con le chiacchiere insomma si fa poco, bisogna dimostrarlo con i fatti, metterci un po' più di cattiveria e fare questo filotto di vittoria, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Soprattutto nel secondo tempo ho visto una squadra spenta mentalmente, senza spina dorsale, che si è consegnata al Modena. L'ho detto prima, il primo tempo, secondo me è un buonissimo primo tempo, il secondo tempo siamo stati veramente confusionari e non mi è piaciuto il secondo tempo. Dursini anche in panchina, cosa è successo? No, avevo avuto un problema di gastro, di gastrointerita, avevo avuto un problemino e niente, da sabato notte, quindi in questi giorni non stava tanto bene, ora domani faremo tutti gli accertamenti del caso. Studio, ho io l'auricolare, giro le domande a Luca Matteassi. Fabio, a te. Io volevo chiedere al direttore, il Pescara ci aveva abituato in queste partite ad avere sempre una reazione anche nervosa, magari non sempre lucida, e oggi quella un po' è mancata e potrebbe essere un motivo di preoccupazione il fatto che la squadra un po' abbia perso questa cattiveria nel cercare di recuperare una partita. Sì, il primo tempo, secondo me, lo ripeto, abbiamo fatto bene, il secondo tempo è vero, hai ragione, perfettamente ragione, noi siamo stati veramente poco lucidi, confusionari, come ho detto prima, siamo stati veramente poco pericolosi, non era mai capitato in un tempo di creare solamente due palle gol, mi sembra. Mezza con bocci. Sì, però è vero. Io volevo fare una domanda a Matteassi, tanto ex di questa partita, perché anche sul piano tattico ha giganteggiato Gerli, che sappiamo essere un buon giocatore, mai schermato. Sì, per come giocavamo, sì, siamo andati a prenderlo poche volte, quindi ha fatto molto bene, lo conosco, è un giocatore che se lo lasci libero fa girare la squadra benissimo, è vero, è vero, anche questo, ha fatto una buonissima partita, l'abbiamo lasciato troppo libero di giocare. Studio. Fabio, un'altra curiosità, una domanda. No, vabbè, la domanda, non c'è nessuna domanda. Chiaramente in questi momenti, essendo stato un giocatore di buonissimo livello, il direttore, io credo che lui debba star vicino alla squadra, cercare di infondere fiducia, di star vicino al mister e sicuramente cercare di correggere, come ha detto lui, gli errori, però non si può giudicare chiaramente da una partita fatta male, secondo me è l'unica partita fatta male dal Pescara, un lavoro di due mesi e quindi io credo che lui debba essere bravo in questo, con la squadra, col presidente e col mister. Certo, te sai, insomma, hai giocato a calcio, quindi sei benissimo in questi momenti, bisogna fare così, hai perfettamente ragione, però insomma, dobbiamo stare tutti insieme, tutti uniti, il campionato è lungo, dobbiamo lavorare, come dico sempre, ma l'avrei detto anche se avessimo vinto, però è l'ora di fare un po' di filotto, un filotto di partite, altrimenti andiamo da poche parti. Faccio l'ultima domanda io a Matteassi, che so che è un po' difficile, però mi sento in dovere di farla, visto il momento e visto il trend della squadra, la panchina di Auteri non è minimamente in discussione, la domanda la devo fare. Non scherziamo, non scherziamo, no, la domanda la devo fare. Certo, non scherziamo, lavoriamo e ripeto, testa bassa, abbiamo perso, contro un'ottima squadra, come il Modena, chi vince ha sempre ragione, noi a testa bassa dobbiamo lavorare e continuare questo percorso, come dico sempre, e cercare di fare un filotto di partite. Sul mister non mi fate neanche la domanda, non si scherza, veramente. La domanda era d'obbligo, la risposta è quella che ha dato il direttore Matteassi, grazie.